Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di essere tutti qua. Un saluto al Sindaco, al Presidente della Camera di Commercio, a tutte le altre autorità presenti, un saluto ai nostri pastai che sono qua alle nostre spalle e a tutti anche i rappresentanti del Consiglio regionale che sono presenti oggi qua, al Direttore di Atim, che sono oggi presenti qua a questa conferenza stampa. È una giornata importante, è una giornata importante per Campofilone ma è una giornata importante per le marche perché riusciamo a raggiungere un obiettivo che con il consenso di tutela dei maccheroncini di Campofilone dà un altro strumento non solo per la promozione del nostro territorio, per garantire l'autenticità del nostro territorio, la qualità del nostro territorio che viene certificata in questa eccellenza, ma anche perché con questo obiettivo riusciamo sicuramente a costruire progetti che nell'enogastronomia, nel turismo, nella tradizione, nell'identità più profonda della regione Marche, riesce a costruire appunto un percorso che può essere aggiuntivo rispetto a quelli che già erano presenti. Si tratta di un riconoscimento importante e il presupposto è stato quello di un grande lavoro che si è dovuto sostenere dalle amministrazioni, dagli imprenditori, dagli enti locali. E credo che intorno a questo grande lavoro ci sia stato anche oggi una grandissima soddisfazione. Il maccheroncino di Campofilone già chiaramente è non solo conosciuto e apprezzato nelle Marche, ma in Italia e anche all'estero. Io ho avuto occasione già nella mia esperienza da sindaco di incontrare i produttori quando ero a Potenza Bicena, ormai troppi anni fa, e devo dire che era già uno strumento e un prodotto importante e molto conosciuto e riconoscibile e riconducibile nella nostra regione. Oggi, con questo tipo di certificazione, ha un valore assolutamente riconosciuto dal ministero, ma ha un valore assoluto. Quindi io non vado oltre, sindaco. Penso che sia importante che tu, da rappresentante massimo della città di Campofilone, e quindi anche dal punto di vista istituzionale come punto di riferimento, ci fai entrare in questa fantastica esperienza. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Faccio i saluti, ovviamente ringrazio il Presidente per la disponibilità che ci ha dato. Appena ho contattato il Presidente per dire se poteva venire a Campofilone a fare una conferenza stampa, lui mi ha detto, la facciamo in Regione, ricorda Presidente, perché sicuramente è un valore più alto e sicuramente avrà un eco maggiore su tutte le testate. Quindi ringrazio i giornalisti che sono qui presenti e quelli che sono collegati in diretta da qualche parte. Ringrazio oltre al Presidente, ovviamente l'assessore Antonini, il Presidente del Consorzio di Tutela, a cui poi lascerò la parola, Marcozzi, il Presidente Sapatini e l'assessore D'Ercoli del Comune di Campofilone. Voglio ringraziare particolarmente la Proloco, perché 60 anni di sagra, quest'anno abbiamo fatto la sessantesima sagra di Maccheroncini, il Presidente della Proloco sta nascosto in un angolo, perché loro lavorano, non si mettono in prima fila. Però il Presidente è lì. E quindi ringraziando l'attuale Presidente, ringrazio tutti i Presidenti che si sono succeduti da 60 anni a questa parte. Qualcuno è un pastaglio, sta qui dietro a me, qualcuno è Presidente dell'UMPLI regionale, sta di fronte a me. Quindi tutti si sono adoperati per far crescere i maccheroncini di Campofilone. E poi dieci anni fa siamo arrivati all'IGP, all'IGP grazie all'amministrazione, grazie ai pastai, grazie all'ex sindaco che è qui a fianco a me. Oggi non a caso è l'assessore al turismo e all'enogastronomia. Penso che in Italia non esista un assessore all'enogastronomia. Però per Campofilone è importante questo, perché i maccheroncini legati al turismo e il turismo legato ai maccheroncini è una cosa fondamentale per Campofilone. I maccheroncini per Campofilone significa economia, significa lavoro, sia nelle loro fabbriche, sia nell'indotto, ma anche legato al turismo. E il turismo è legato ai maccheroncini. Sono due cose che non si possono dividere, perché su un paese di 1900 anime il turismo e l'enogastronomia è la cosa più importante. Noi siamo in una valle che è la Valdaso, quindi Campofilone da solo conta poco. Se non lo vediamo all'interno di una valle, che è una valle che va dal mare fino ai Monti Sibillini, piena di borghi, piena di eccellenze enogastronomiche. Vedo il dottor Bruschini, mi viene sempre da... Noi non dobbiamo promuovere i singoli borghi, dobbiamo promuovere la Valdaso all'interno della regione Marche. E poi c'è una cosa che c'è sempre qui e dobbiamo promuovere la riviera dei Sibillini, perché la riviera di Campofilone, Altidona e Pedaso è lo sbocco dei Monti Sibillini. Pensare a un progetto turistico dove una famiglia fa tre giorni al mare e tre giorni in collina oppure in montagna, per le passeggiate o al mare, perché ci sono i giorni in cui al mare non si può stare. In 40 chilometri noi andiamo dalla costa ai monti. Poi ci vorrebbe... non c'è l'assessore di infrastrutture, ci vorrebbe collegarla meglio, però gli investimenti della regione ci sono, i progetti ci sono e sono certo che andranno avanti. L'ultima cosa la dico per i pastai e poi mi taccio, me la sono scritta questa perché ve la devo dire. I pastai sono marchigiani, come noi, sono individualisti. La loro azienda viene prima di tutto, prima spesso anche delle famiglie. Sono testardi come me e come molti di quelli che stanno qui dentro, ma quando capiscono che ci sono cose importanti da fare insieme, per il loro bene e per il bene delle loro aziende e della loro comunità, si buttano nel progetto e la sposano a 360 gradi. Il Consorzio è questo. E io vi ringrazio per lo sforzo che hanno fatto per mettersi insieme. Grazie. Scusate, do sbrima la parola al Presidente in modo che poi gli assessori e il Presidente della Camera di Commercio possano rispondere e fare le loro considerazioni sull'incontro. Buongiorno a tutti, allora anch'io mi chiamo Marcozzi Gabriele e sono un produttore di Campofilone, questo lo abbiamo capito tutti e vorrei ringraziare la regione per la possibilità di questa opportunità che sostanzialmente per noi è unica, anche all'assessore Antonini, Camera di Commercio e il Comune di Campofilone. Il Consorzio ha la funzione principale di tutelare un prodotto tipico, che è appunto il macchiononcino di Campofilone, che nell'anno 2013, grazie a un regolamento della Comunità Europea, il 7 novembre 2013 in particolare, quindi quasi dieci anni fa, è diventato IGP. Quindi da quel momento noi come produttori eravamo costituiti tramite un'associazione che aveva lo scopo di ottenere il riconoscimento a livello europeo, quindi poi ci sono stati anni in cui abbiamo lavorato per stare insieme e creare il consorzio, qualcuno ci dice che ci abbiamo messo troppo, sì probabilmente ci abbiamo messo troppo, ma era necessario arrivare a un consorzio che rappresentasse il 100% dei produttori, in realtà ne manca soltanto un piccolo produttore, ma è veramente piccolo, quindi rappresentiamo il 99% e oltre della produzione. Questo è stato importante proprio perché andare, potevamo fare un consorzio dove eravamo presenti diciamo meno aziende e andare avanti da soli, quindi questa cosa non è avvenuta, non avverrà, quindi oggi dobbiamo allenarci a essere un gruppo unito, perché il maccheroncino di Campofilone comunque non è come diceva il sindaco un solo prodotto enogastronomico, ma per la regione Marche è un valore culturale, un valore immateriale, un valore che almeno noi produttori, e speriamo con l'appoggio dell'autorità, si riesce a portare come patrimonio immateriale italiano, perché nostra volontà è comunque, come già avviene singolarmente per ogni azienda, esportarlo nel mondo e far sì che comunque rappresenti anche un veicolo pubblicitario della regione Marche, ovviamente del comune, perché in ogni confezione comunque utilizziamo oltre al logo del produttore, utilizziamo il nome del comune, il Campofilone appunto, questo è importante, è importante e è un valore, un valore che oltre a essere il nostro del consorzio, come obiettivo noi abbiamo quello di tutelare il prodotto e di valorizzarlo, ma Campofilone deve diventare un valore immateriale, diciamo, di cui chiediamo l'aiuto per la tutela a livello internazionale. A me personalmente è capitato di avere una registrazione in Australia contro a nome Campofilone, quindi abbiamo dovuto lottare per poter gestire questa cosa qui, ad altri produttori so che è capitato anche situazioni del genere, e quindi questa è una missione che dobbiamo in qualche maniera condividere, noi come consorzio e tutti gli altri stackholder che sono interessati a questa cosa qui. Chiaramente noi partiamo adesso come consorzio, non vi parlo oggi di macchie lungite di Campofilone, perché comunque immagino che tutti voi le avete assaggiati e sapete di cosa si tratta, quindi è una pasta unica in ambito europeo, questo è una cosa che ci pregia sia nella parte produttiva che nel riconoscimento, quindi è un prodotto che è unico del suo genere, ha come tutti i prodotti diciamo un riconoscimento sul mercato che è dato dalla forma finale, che è comunque un imballo in cartone, cartoncino che comunque vedete sui tavoli, quindi in giro ci sono parecchie imitazioni, rispetto a questo volevo sensibilizzare anche la regione e le istituzioni, che adesso tra le attività istituzionali il consorzio dovrebbe iniziare un'attività di tutela, ma sembra assurdo dover pensare che le prime attività di tutela debbano essere rivolte a magari alcuni ristoratori che magari vendono o scrivono in menù, non me ne vogliono, scrivono in menù maccheroncini di Campofilone, ma poi servono altri tipi di prodotti che con i maccheroncini non hanno nulla a che fare, questo sarebbe brutto che il consorzio iniziassi a dover andare a fare le prime attività di tutela all'interno della regione Marche. Quindi di maccheroncini, diciamo altre cose non vorrei in questo momento dirvi, perché non so neanche i miei tempi quali sono, e vorrei parlare invece delle prospettive future a breve del consorzio. Nella settimana appunto di novembre, settimana dal 5 al 10, l'11 all'incirca, vorremmo festeggiare praticamente il decennale della IGP. È un'occasione unica perché come sapete il decennale è il primo, quindi abbiamo detto che il regolamento CEU di tutela è uscito il 7 novembre 2013, quindi il 7 novembre 2023 per noi è un'occasione di andare a Roma, fare un'altra presentazione per cercare di valorizzare questo prodotto tipico marchigiano. Rispetto a questo però vorremmo poi organizzare un evento sempre nella stessa settimana a Campofilone, quindi un convegno dove magari ecco mi piacerebbe la presenza di tutti quanti voi, e in quell'evento si potrà parlare diciamo più in particolare di quelli che è il prodotto, con un maccheroncino di Campofilone e con interventi anche molto più ampi. Rispetto a questo chiaramente abbiamo condiviso con il Comune, con le prime attività da fare, con la Prologo, speriamo ecco in un appoggio almeno un patrocinio Regione Marche, Camera di Commercio e quant'altro. e niente, quindi io vi lascerei dicendoci rivediamo a breve e lascerei la parola. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Fin dall'inizio del nostro mandato il Presidente Acquaroli ci ha ben indirizzato nel chiederci a noi assessori di essere vicini ai territori, soprattutto quei territori dove c'è la necessità della presenza, del supporto della Regione e delle istituzioni per cercare di sostenere quelle iniziative importanti che caratterizzano non solo, come ha detto benissimo il Sindaco Cannella, un singolo comune, avrò una parentesi, Campofilone da questo punto di vista veramente è una storia, perché dietro il maccheroncino ci sono famiglie, massaie, storie del paese, tradizioni ormai più che decennali che si sono tramandate e alla fine sono esplose con questa magnifica fioritura di pasta. Però dicevo ecco, l'importanza di rappresentare anche un punto di riferimento per un territorio più vasto, perché ormai quando parliamo di prodotti noi identifichiamo anche spazi, aree molto più ampie, quindi la Valdaso, hai nominato la Valdaso, hai nominato i Sibillini importantissimi, ma diciamo proprio tutta la Regione Marche effettivamente, perché siamo una somma come Regione di importanti biodiversità, di importanti eccellenze che insieme nella differenza, ed è magnifico questo perché appunto quando parliamo di Regione al plurale, Regione delle differenze però con delle tradizioni magnifiche che si compenetrano e si complementano l'una rispetto all'altra, e quindi si crea questa veramente ricchezza notevole e legata anche perché no a un'attrazione turistica, perché quando parliamo di prodotti legati all'agricoltura, legati alla terra e anche alla trasformazione, perché non scordiamoci che c'è la mano dell'uomo anche in tutto ciò, c'è il prodotto agricolo, c'è la generosità del nostro mare e della nostra terra, ma poi c'è l'abilità dell'uomo, dell'imprenditore che sa trasformarla e sa anche poi giustamente venderla, perché è l'aspetto anche importante economico, si creano anche degli ecosistemi economici legati a filiere agroalimentari. Quindi diciamo ci sono tutti i presupposti affinché la Regione raccolga un invito del Presidente Marcozzi come assessorato all'agricoltura e mettiamoci anche al commercio perché noi e all'industria agroalimentare sia assolutamente vicina e segua passo passo ogni positiva evoluzione di questo consorzio al quale auguriamo ogni fortuna e diamo fin da oggi il nostro più totale sostegno. Quindi grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti, buongiorno al Sindaco, al Presidente Acquaroli, l'assessore e a tutti quanti i pastai che sono riusciti per la prima volta, io perché provengo da Ascoli e proviamo alla, offida però alla provincia di Ascoli, ricordo più di 10-12 anni fa si provava anche 15 anni fa a far sì che si creasse questo consorzio. Ci sono riusciti perciò un grazie va fatto a tutti quanti loro, che ne è semplice metterli tutti quanti insieme, conoscendoli tutti e poi avendoli qui dietro dei cari amici che abbiamo fatto dei percorsi anche associativi insieme, è una bella cosa, faccio complimenti a Ascoli perché oggi rappresenti uno dei consorsi più importanti che noi possiamo mettere a conoscenza in tutte e quante le nostre chermesse che andiamo organizzando e che possiamo mettere in campo anche fuori dal territorio italiano. Con Marco stiamo lavorando insieme al Presidente Acquaroli proprio per promuovere con i voli nelle località dove sono agganciati, perciò potremo inserire anche i maccheroncini di Campofilone, questo consorzio all'interno di queste progettualità e promuovere sia i pacchetti turistici ma anche il mondo dell'acqua alimentare portando quello che di bello nel mondo già negli anni passati girava come maccheroncino, perciò li potremo far conoscere veramente quello che noi abbiamo e che voi avete realizzato a Campofilone. Perciò grazie ad Ercoli che aveva iniziato, grazie al Sindaco Cannella che ha portato a compimento questa opera come Sindaco, non è semplice amalgamare tutti, però dopo con la Presidenza Acquaroli possiamo dire che tante... No, vabbè, diciamo che con l'avvento della Presidenza Acquaroli alla Regione tante sinergie si stanno unendo insieme, perciò il CEM di lavorare insieme, collaborare, cercare di essere uniti anche magari pensando diversamente su alcune vedute è quel valore aggiunto che una Regione piccola come la nostra, parliamo di 1.400.000 abitanti, lo deve fare altrimenti non saremo riconosciuti in nessuna parte del mondo. Avevo qui un dato importante che vorrei mettere che è la qualità vita, la fondazione che con l'ISMEA ogni anno tira giù dei dati importanti, le marche tra DOP e IGP incide il 6% sul peso del settore agroalimentare regionale, la media a livello nazionale è il 21%, perciò iniziamo dal basso ma dovremo lavorare, perciò sicuramente con l'assessore Antonini, con i progetti che potremo, per quello che noi possiamo fare come Camera di Commercio, metterla insieme, lo potremo mettere insieme. Parliamo di 35 prodotti, un più 6,8% sul 2020 e circa 2.900 operatori che da questo... lavorano su questo mondo qui tra DOP e IGP, perciò da qui dobbiamo partire. Noi come Camera di Commercio abbiamo anche un'azienda speciale dedicata e abbiamo creato proprio sull'agroalimentare a livello regionale. Abbiamo creduto fortemente su questa linea e con l'azienda speciale dell'agroalimentare, abbiamo un progetto che lo scorso, quest'estate abbiamo messo in campo che è Autoctone Gourmet, lo vorremmo proporre anche con l'azienda speciale nel Natale 2023, Autoctone Gourmet è una manifestazione con i blogger e qui ne abbiamo uno, di conseguenza dove vogliamo promuovere con la regione Marche, con gli operatori, tutto quello che è il mondo dell'enogastronomia, ecco perché saluto anche i cuochi che diventano importanti in questo progetto e anche qui potremmo mettere in campo Presidente Marco Cozzi qualcosa di importante come consorzio dei maccoroncini che possono entrare in questo progetto. Come Camera di Commercio continueremo a sostenere tutte quelle attività che danno la possibilità aggregandosi di dare quel valore aggiunto che noi ci meritiamo. Le Marche se lo meritano, abbiamo la possibilità di avere una Camera di Commercio a livello regionale, una regione che ci rappresenta al meglio su tante attività a livello nazionale, perciò ecco approfittiamo di questa alchimia che si è creata in questo periodo perché insieme potremo arrivare molto più lontano di quello che voi tutti quanti da soli avete fatto in questi anni che è tanto, però ecco vedrete che insieme riusciremo a arrivare magari dove non lo pensavamo. Se vi ricordate il taccio, a giugno abbiamo fatto la 32esima Convention con il Presidente Acquaroli, con il Sistema Nazionale dell'Union Camere, con le Camere di Commercio italiane all'estero, di 84 Camere di Commercio 76 erano presenti di tutti e 5 i continenti, tenete conto che queste Camere di Commercio hanno riconosciuto l'alta professionalità delle nostre imprese, alcuni di voi erano presenti nei B2B del 19 di giugno, oltre all'altra professionalità del mondo imprenditoriale, delle imprese che erano preparate e predisposte all'internazionalizzazione anche un valore aggiunto molto elevato dei prodotti che sono stati presentati, specialmente quelli dell'arco alimentare. Ecco perché abbiamo tutto quanto il terreno di gioco a disposizione per realizzare una bellissima, un bel campionato e arrivare vincitori alla fine di questo campionato, perciò in bocca al lupo a tutti, come Camere di Commercio a fianco della Regione saremo al vostro fianco su tutte le iniziative che noi potremo mettere in campo. Con Marco ci vediamo tutti i giorni, ormai siamo diventati una coppia da fatto, perciò anche con lui lavoreremo sulla promozione e per quello che può essere utile per voi essere rappresentati nel mondo. Buongiorno a tutti, io sono un po' emozionato perché in questa sala in tanti abbiamo vissuto le vicende stando a fianco dei nostri produttori per tanti anni, quindi essere qua oggi è veramente un motivo di grande soddisfazione. Prima cosa i ringraziamenti perché noi piccoli comuni spesso ci siamo sentiti un po' ai margini. Devo dire che oggi, ma non solo oggi, ci sentiamo al centro dell'attenzione, ci sentiamo tra virgolette coccolati dalle nostre istituzioni. Ne ho già parlato poco giorni fa con il Presidente della Camera di Commercio, lo ribadisco oggi al Presidente della Regione, e non è scontato, anche la vostra presenza oggi qui, dedicarci quest'ora di tempo, è un segnale importante. Quindi grazie, non formale ma di cuore. È stato detto tanto, quasi tutto, penso stamattina è inutile fare tanti approfondimenti perché è un momento di festa oggi, questo deve essere soprattutto. Come amministratori, faccio una battuta col sindaco l'altra sera, questa cosa ci dovrebbe semplificare un po' la vita perché guardo anche Marco, ci troviamo a tantissime manifestazioni, noi abbiamo sempre avuto il grosso problema di quali maccheroncini, di quale produttore li prendiamo, ogni volta dobbiamo togliere le confezioni perché altrimenti potete immaginare che insomma ci sono sempre degli equilibri da mantenere. Adesso avremo un unico interlocutore, quindi la cosa si dovrebbe semplificare. Adesso, a parte le battute, aggiungo solo un paio di cose. La prima, sottolineo sottoscrivo quello che diceva il presidente del consorzio Marcozzi, perché questo consorzio poteva nascere nel 2013, subito dopo l'ottenimento dell'IGP, il passo naturale sarebbe stato quello, ma non erano maturi tempi e far partire un consorzio in un piccolo centro con pochi produttori già zoppo, avrebbe creato forse più problemi che risultati. È vero, hanno impiegato tanto tempo per raggiungere questo equilibrio, forse anche troppo, è il tempo che ci voleva, ma credo che adesso con una squadra così compatta, con un equilibrio trovato, penso che possiamo recuperare abbondantemente gli anni che abbiamo perso. E quindi un grazie agli imprenditori, perché ognuno di loro, lo sappiamo bene, ha dovuto forse fare più di un passo indietro, ognuno di loro ha dovuto mettere da parte un po' della loro grande forza imprenditoriale, perché gli imprenditori marchigiani sono dei grandi individualisti, è la loro forza da sempre, e quindi un grazie veramente di cuore da un amministratore oramai di lunga data. E posso fare una cosa, perché non sono stati citati, sono alle nostre spalle, ma io li vorrei chiamare per nome e cognome, senza fare d'orta a nessuno, vado in ordine, Enzo Rossi, Vincenzo Spinosi, Paolo De Carlonis, Giovanni Battista, Mari Lungo e Leonardo Carassai, oltre al presidente Marcozzi Gabriele, che avete conosciuto prima. Quindi grazie di cuore. L'ultimo grazie, ma ce ne sarebbero tanti, è per una figura che è stata sempre nell'ombra, ma che era dovuto di sentire tutti, e che è Angelo Concetti, che è da anni che se li sorbetta come consulente un po' di tutti e cerca di mediare. E faccio un'ultima sottolineatura su una figura che è stata citata dall'assessore Antonini, perché se noi siamo qui oggi, se loro portano avanti delle grandi aziende, lo dobbiamo forse qualcuno che ha iniziato a fare i macchiaroncini molto prima di noi, e sono le nostre massaie. Noi abbiamo fatto una piccolissima ricerca storica che adesso approfondiremo nel nostro archivio, dopo abbiamo testi che partono dal 1500, adesso a ottobre inizieremo la digitalizzazione, grazie anche qui a un contributo della Regione Marche sul bando Archivi Storici, un'altra occasione quindi per ringraziarvi. Abbiamo fatto questa piccola ricerca storica, ma molto veloce, e siamo arrivati al 1860 all'Unità d'Italia con un primo premio vinto da tale Giovanni, che poi dalle ricerche dell'Enagrof abbiamo scoperto che era Giovanna, giustamente, a Storri, di Campofilone, che vinse il primo premio a una fiera agricola a fermo. E questo è una ricerca, però stiamo parlando della dicitura completa Maccheroncini di Campofilone, perché se parliamo di Maccheroncini e Maccheroni andiamo ad Amedeva, ma la dicitura esatta Maccheroncini di Campofilone va dal 1860. Speriamo che l'archivio ci porti qualche altra sorpresa e quindi io credo che un grande grazie anche a tutte le massaie che ci hanno preceduto e a quelle che ancora resistono, perché ancora ne abbiamo due o tre che riescono a resistere e a fare una produzione artigianale che ci ha fatto conoscere nel mondo. Basta, non va d'altro. Bruschini poi lo salutiamo in separata serie, perché abbiamo tante occasioni e comunque grazie per tutto il lavoro che stai facendo. Scusate se sono stato un po' lungo. Le conclusioni, caro sindaco, sono i nostri ringraziamenti. Ringraziamenti per l'emozione che abbiamo ascoltato nei vostri interventi, per un valore che ha dato all'umiltà che si capisce. Questo è un risultato grande, grandioso, ma che viene da una grande umiltà, da condivisione di valori autentici che contraddistingue la nostra regione, che a mio avviso è il grande punto di forza della nostra regione e di cui noi dobbiamo essere orgogliosi. Quindi non siete voi che dovete ringraziare noi, siamo noi che dobbiamo ringraziare voi perché nel territorio, con questa grande capacità, devo dire, coraggio, determinazione, ma anche destardaggine a volte, nel raggiungere gli obiettivi, siete messi in gioco nel voler credere in un prodotto e nel portare questo prodotto a conquistare i mercati internazionali. Ma è questo il biglietto da visita che contraddistingue e deve sempre di più contraddistingue la nostra regione. Quando con i voli aerei si parte dall'altra parte del mondo e si cerca un'esperienza, noi dobbiamo essere in grado di intercettare e far capire che qui non c'è solo il mare, la collina e la montagna, ma si vive un'esperienza, si entra in un clima, in un'accoglienza che ti fa vivere qualcosa di unico, qualcosa di straordinario che puoi portarti a casa con i nostri prodotti, ma che se vuoi veramente conoscere in maniera profonda devi partire, prendere l'aereo, il treno, la macchina, il pulma, quello che è necessario e venire qui da noi. Per il tramite dei maccheroncini e di tante altre specificità, autenticità che noi abbiamo, possiamo solo accrescere il nostro potenziale e io di questo veramente vi devo rendere grazie, a nome della regione, a nome mio personale, a nome dell'assessore Antonini, a nome dell'estruttore, perché è bello quando si raggiungono questi risultati, è bello poterli festeggiare insieme, ma è anche assolutamente indispensabile poi riuscire a mettere in campo le strategie per far crescere questo nostro territorio. Io chiudo veramente le conclusioni, caro Sindaco, facendo una brevissima ultima riflessione. È un momento difficile quello che vive la nostra regione, che vive l'Italia, che vive l'Europa. Noi, lo dico sempre negli ultimi giorni, stiamo attraversando anni che saranno letti sui libri di storia tra pandemia, guerra, inflazione, cioè tutto quello che poteva capitare sta capitando. Però in questo momento più che mai è importante, fondamentale ancorarsi sui valori e su quello che noi siamo veramente. E prodotti come questo rappresentano non solo un prodotto, ma rappresentano una storia e un territorio e su questi prodotti noi dobbiamo costruire la narrazione e la forza guardando al futuro. Quindi grazie anche perché se volete tutto questo avviene nel momento particolare e ci dà una forza particolare per andare avanti. Grazie e soprattutto ora buona degustazione. Volevo solo aggiungere una cosa, lo stavo dicendo prima in sala con molti di voi, da Campofilone non si torna indietro senza aver mangiato la pasta e quindi vale anche per la regione Marche, non si torna indietro senza aver assaggiato i maccheroncini perché noi vi abbiamo raccontato una storia, ma poi il valore vero ai maccheroncini io darò il vostro palato e lo racconterete in giro per il mondo. Grazie. Grazie.